ciao a tutti ben trovati allora veloce il punto sul nasdaq 100 timeframe delicate delle giapponesi sono da poco passate le 19 quindi abbiamo ancora qualche ora di seduta anche se ormai la sessione odierna sembra ben impostata al rialzo è interessante vedere come ci sia stato dapprima la rottura proprio con le ultime sessioni di ieri di oggi la rottura di questo canale ribassista possiamo vedere in maniera abbastanza nitida la seduta di ieri ha dato una candela pin di prosecuzione rialzista possiamo anche con un minimo di tolleranza tracciarlo così prendendo questi massimi per la trend line discendente ma in ogni caso poco cambia perché la candela di oggi va in rottura candela con un corpo esteso e il primo ostacolo che trova a questo punto la la salita del prezzo è proprio sui sui massimi odierni perché massimo odierni vanno a sentire la resistenza di brevissimo è anche vero che la salita partita alcuni giorni fa è sicuramente ripida la resistenza sembra essere attaccata in sostanza con una certa decisione quindi c'è da aspettarsi vista anche quanto era stato lungo il canale ribassista c'è da aspettarsi quello che è il resto rimbalzo ma che possa essere più più corposo più sostenuto e più prolungato rispetto a quanto fatto finora un livello che credo potrebbe essere preso è sostanzialmente in primis a questo livello e quindi area dei 2.870 è un livello interessante importante perché è un livello che coincide con la più importante delle medie mobili e mi riferisco chiaramente alla media mobile a 200 ecco vediamo che in maniera estremamente precisa peraltro la 200 ben accompagna il movimento del nasdaq vediamo come qui ha fatto bene da resistenza anche in questo punto e quindi sembra secondo me perfettamente nella no il fatto che questo rialzo ripido non termini già subito e possa avere appunto uno sfogo fino ai 12.800 12.900 punti probabilmente aiutato forse anche da dal periodo delle trimestrali che storicamente tendono a essere più numericamente positive che negative quindi potremmo avere una buona spinta ancora secondo me chiaramente per qualche giorno un saluto a tutti e buon trading che venga che venga che venga